Loredana Lecciso è la nota partner di Albano, il cantautore pugliese che ha scelto lei dopo la separazione da Romina Power. Oramai, infatti, nonostante non siano ancora convolati a nozze, i due stanno insieme da parecchi anni e hanno anche avuto due figli. Il rapporto tra Loredana e Romina, tra l'altro, non smettono mai di incuriosire il pubblico e i tabloid, dato che pare che non sia proprio quello che si può definire un idillio. Ma tant'è che la Lecciso e Albano sembrano una bella coppia affiatata che dura nel tempo. Lo dimostrano anche certe fotografie che ogni tanto la stessa bella leccese posta sul suo profilo ufficiale di Instagram. Sì, perché Loredana è anche piuttosto attiva sui social e ha persino una marea di ammiratori. I follower, nel momento in cui si scrive, infatti sono ben più di 190.000. Lei, dal canto suo, pare che si diletta a tenere informati i supporter con alcuni scatti che immortalano certi momenti della sua vita quotidiana. Ecco chi c'era con Loredana. E, d'altra parte, i supporter non mancano mai di premiarla tempestivamente con l'IKEA e risposte. Questo è il caso anche di uno degli ultimi post che la Lecciso ha pubblicato, per l'appunto, su Instagram. Direttamente dalle tenute al Bano, come ci indica la geolocalizzazione, Loredana si è mostrata in atteggiamenti piuttosto dolci con qualcuno di veramente speciale. Per di più, si trova all'interno di quella che pare proprio essere la sua camera, ed è sdraiata sul letto. Vicino a lei c'è qualcuno che a quanto pare si diverte a farsi fare le coccole. Si tratta del suo bellissimo amico a quattro zampe dal pelo tutto bianco. Per la precisione, come ci ha informato Loredana, lui si chiama Chicco. Per la precisione, come ci ha informato. Per la precisione, come ci ha informato.